6 concorrenti allergici alla fatica, una settimana di tempo per imparare 3 sport, un unico avversario, il mare. Tutto questo è Blue Blue Beach, il primo reality beach. In onda dal 14 giugno, solo sulla 3. Il mare per loro non sarà mai più vacanza. Il mare per loro non sarà mai vacanza.